a vostra sinistra quando scendete m'ha preso m'ha preso io non l'ho preso come è possibile t'ha ucciso? è morto oddio quindi sparavo tu a quanto non è uscito e mi ha preso quarton sei tu alle scale si? si ok 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 è al tuo piano qua? è al tuo piano sotto quando scendi c'era a sinistra c'ho il buco cieco vaffanculo non riesco a spararlo sta ridendo sto stronzo in voi aspetta provo a salire dai salgo io sta ricaricando ovvio che vinto sparo sulla porta esce lui sparo un volto e mi prendo e il main colpio non lo prendo sta salendo zitto zitto black coprimi sto provando sto provando non vedo nessuno lo sento muovere ma ehm mira la porta dove era lui sta uscendo no 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 ci sto io qua sotto non lo vedo si 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 sta uscendo sta uscendo aspetta no merda è ritorna sopra si a due piani sotto di te sta salendo quarton è alle scale sopra di te si è sotto di te scusami va bene cazzo però ho sbagliato giocano sta spalando a me sta spalando a me mi sa che ha spalato a me Andrea dimmi zitti raga zitto cazzo sta lanciando una granata è un fumogine un bengala un bengala per non farmi vedere secondo me ma visto ah beh non serve Mauro lo vedi il bengala si il bengala si 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 io arrivo eh si quarton è tra il piano terra e il primo piano eccolo sta salendo verso di te ok ancora primo piano ma tu non riesci a spararmi eh preso chi è oh sei tu Mauro preso in pieno in testa è morto a tua destra quindi raga sul mio corpo non c'è andato preso in pieno è morto confermo grazie a tutti